Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. Fino a 1 ricordiamo la chiusura per lavori fino al 28 febbraio del tratto compreso tra Aglio e Roncobilaccio in direzione nord. Lo sguardo al trasporto pubblico locale e autolinea toscana informa che quest'oggi sono assenti per motivi legati al covid 505 conducenti sul territorio regionale. Sono previsti tagli al servizio. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze tra i cantieri al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli di asfaltatura notturna in via Senese e via Volterrana e lavori all'illuminazione pubblica in via Nello Carrara. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.